Siamo a due giorni dalla partenza della ruta del Rum, è stato un lungo percorso per arrivare fino a qui. È un progetto che personalmente è iniziato molto 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 tempo addietro. È un sogno che ho fin da quando sono bambino, è un sogno che si sta realizzando anche se per ora solamente diciamo il primo step perché siamo alla partenza ok, però bisogna arrivare dall'altra parte dell'oceano. Il primo obiettivo è cercare di arrivare in Guadalupe, poi si vedrà. I primi 4-5 giorni di regata saranno molto duri, quindi secondo me la regata inizierà dal quarto o quinto giorno in poi. Sono felicissimo, orgogliosissimo di essere qui e darò tutto quello che ho per cercare di fare la regata nel miglior modo possibile. La barca è una buona barca, abbiamo fatto delle modifiche che l'hanno resa più competitiva. Sono barche molto più nuove della mia, noi siamo al 55, siamo al 150, però in realtà non voglio cercare alibi perché credo che su queste barche qua la percentuale più grossa la differenza la faccia comunque il marinaio che c'è su. Quindi poi sta a me in realtà.